Grandi emozioni per il tradizionale concerto di Pasqua, uno dei più longevi della Sicilia, dell'orchestra Bequadro e del coro Laudate Dominum di Bageria, diretti dal maestro Salvatore Di Blasi. Il 76esimo concerto della stagione concertistica Città di Bageria, giunta all'ottava edizione sotto l'organizzazione dell'associazione culturale Bequadro. Il concerto si è svolto alla parrocchia Santuario Maria Santissima Immacolata a Bageria. Straordinari brani in programma come il Gloria di Antonio Vivaldi e la Regina Celi dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Eseguiti anche tre canti gregoriani. Uno dei momenti più emozionanti è stato l'ingresso del coro di Voci Bianche dell'Istituto Tommaso Aiello di Bageria che ha cantato l'inedito del maestro Di Blasi eseguito per la prima volta e risorto Cristo Signore. La corale polifonica Laudate Dominum nasce nel 1993 da un'idea di Salvatore Di Blasi su richiesta di Don Mario Di Lorenzo per animare la celebrazione eucaristica della chiesa del Santo Sepolcro di Bageria. Attualmente la corale si compone di circa 40 cantori adulti che hanno dato vita alla scuola dell'Associazione Culturale Bequadro con riunioni di studio e canto alle quali vengono spesso invitati musicisti, docenti di canto, cantanti studenti di musica lirica per collaborazioni, masterclass, confronti ed arricchimento delle conoscenze musicali. Grazie a tutti.